Ragazzi, andiamo a trovare mia sorella perché ogni volta che la cerco dice una canzone e io non la voglio pronunciare e se no mi prendo il virus anch'io, quindi è meglio. Andiamo a vedere dove sta. Lelle! Sveglia, stava dormendo mentre stava facendo i compiti. Lelle! Lelle! Shikra, il tuo telefono forse non prende nell'internat. Vieniti a fare freestyle, non adatte rendersene a Oheho, quando mi dicono a casa Oheho, rispondo sono già qua. Ragazzi, fatemi controllare l'alle che questa sta impazzendo forse. Lelle! Lelle! Vabbè, apro. Ragazzi, chiamiamo mia sorella che mi sta facendo impazzire con quella canzone Oheho, che mi sta nervosendo. Chiamiamo. Lelle! Pronto? Oh, pronto! Pronto! Oheho, mi TVB, cara Italia Oheho, se la mia dolce è metà Oheho, mi TVB, cara Italia Shikra Oheho, se la mia dolce è metà Shikra Shikra Basta! Ragazzi, sono un po' pensiero per mia sorella perché non canta più, andiamo a vedere. Lelle! Lelle! Cerchiamo di cantarle la sua canzone preferita. Shikra Oheho Rifacciamo Shikra Oheho, rispondo sono già qua. Shikra Ti biblicare italiana Oheho, rispondo sono già qua. Più forte! Shikra Shikra E vorremmo forse lo prende nell'interna Vieniti a fare freestyle sulla zattera in da sera Oheho, quando mi dicono a casa Shikra Oheho, se la mia dolce è metà So Oheho, mi TVB, cara Italia Dio Ohoho, mi TVB, cara Italia di Paso E in questo caso Bele ma Che è venite a fare bene Lella per la tua La mia dolce è un'astro La mia dolce è notte Lo prende nell'interna So